Mi sembra il cassino della banca di l'Italia. E' conto, conto, ma che conti? Animale, questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, si può morire da un momento all'altro, fa come faccio io. Si può anche gambare i cent'anni. E' con questo? Ho detto tutto, ho detto. Oh, a proposito... Che? Scusa. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire sulla partita d'olio del mese scorso. Ah, quella partita, quella è partita. No, no, per me è restata. Ah, e va, e va, e va. C'hai fretta? Tu stesso, hai detto prima, si può anche gambare i cent'anni. E va bene, ma si può anche morire subito. Vai, vai presto. Fai presto, è una parola, fai presto. Dipende da te. Ma perché tu vai, da me? No, dico, tu questi li devi tasca, no? Si, li metto da parte. Al solito posto. Li metto da parte. Quando uno ha trovato un posto sicuro, non vale la pena cambiare. E va, ma... Tu li metti al solito posto. Li metto da parte. Io te lo consiglio come amico e come fratello. E va bene, io ti consiglio di andare presto a presto, va. Li metti là, eh. Li metto da parte. Stava, aspetta. Vai, vai, e va, no? Non cambiare posto, eh, non cambiare posto. Ah! Da cagno bifurgo. Da cagno bifurgo. Grazie a tutti. 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 Tu un giorno finirai, lo dico io. Che sarebbe finirai così? Ho detto tutto, via. Ma cosa hai detto? Cosa hai detto? Vedi, per esempio, Spirorci che non si altro, di queste 40 mila lire che mi hai prestato adesso, io 20 le regalo al nostro nipote, hai capito? E fai male. Perché faccio male? Molto male, quello è un giovanotto, tu lo vizi. Lo vizio. Guarda me, io gli regalo cose salutare, io gli regalo cose salutare, la bella cacciotta e sta a posto. Questa è a Napoli, in città, vuole andare con una ragazza a teatro, che va alla botteghina con un pezzo di cacciotta con il prodotto e patrone. Grazie. Grazie.